Pensavo che Marco fosse più intelligente. Così Belen Rodriguez commenta sul settimanale Chi? La crisi con il suo fidanzato Marco Borriello, dopo che sull'isola dei famosi Duxuri aveva denunciato una presunta storia di sesso fra lei e Rossano Rubicondi, l'ormai ex marito di Ivana Trump. Il calciatore del Milan per 4 anni fidanzato di Belen le ha restituito le chiavi della casa che condividevano a Milano non appena è finito il reality show condotto da Simona Ventura e adesso Belen abita da sola a pochi metri dal suo ex. Non voglio credere che lui abbia pensato che io e Rossano sull'isola abbiamo fatto sesso o chissà che cosa, dice la Rodriguez. Con lui ci sono state coccole, soltanto coccole, ma Borriello non le ha mandate giù. Grazie a tutti.